bene vediamo ora la tavola numero 33 in questa tavola svolgeremo la sonometria cavaliera di un prisma a base esagonale diciamo con l'esagono di base che è parallelo al pv allora in proiezione ortogonale questa tavola l'abbiamo già svolta nel per i nei periodi scorsi quindi come sempre come ultimamente facciamo metteremo il nostro foglio in verticale lo dividiamo a metà e nella parte superiore rappresenteremo il solito in proiezione ortogonale che come dicevo abbiamo già svolto in passato e nella parte invece inferiore nella metà inferiore eseguiremo la sonometria cavaliera allora iniziamo chiaramente dalla parte superiore dove riporteremo il nostro esagono è un esagono che ha un lato di due centimetri e un'altezza diciamo l'esagono di base a due centimetri di lato e è estruso diciamo così per 5 centimetri quindi possiamo tranquillamente eseguire la proiezione ortogonale cosa che abbiamo appunto già fatto e essere pronti quindi per rappresentare nel riguardo inferiore la sonometria cavaliera ingrandisco adesso la tavola nella parte inferiore eccola qua come sempre predisporremo i nostri assi ricordo a tutti che nella sonometria cavaliera gli assi sono inclinati di 30 e 60 gradi quindi come sempre faremo in un angolo in alto a sinistra rappresenteremo i tre assi diciamo così come riferimento e poi al centro dove rappresenteremo il nostro solito li rappresentiamo ancora una volta in modo più evidente proprio per ma per avere le stesse dimensioni e utilizzare quindi anche le stesse distanze da questi assi del solito come nella proiezione ortogonale quindi questa è la prima operazione che dobbiamo fare è chiaro che l'asse a 30 e 60 gradi ci utilizzeremo le nostre squadrette bene fatto questo la prima cosa che dovremmo fare è quella di rappresentare sul pio diciamo così la nostra proiezione ortogonale allora ricordo che essendo gli assi inclinati di 60 e 30 gradi l'angolo non si deforma e rimane quindi di 90 gradi l'angolo tra l'asse x e l'asse y quindi esattamente alla stessa situazione della proiezione ortogonale quindi la prima cosa che dovremmo fare è quella di andare a rappresentare diciamo così la vista sul pio quindi la vista di questo esagono dall'alto e quindi staccheremo un centimetro dall'asse x 3 centimetri 2 centimetri scusate dall'asse y e rappresenteremo esattamente questo rettangolo con le sue dimensioni che sono 5 2 che sarà il lato il lato che si vede così dall'alto e poi misureremo queste altre due piccole parti e le rappresenteremo cioè questa figura deve essere perfettamente identica a quest'altra questo per quale motivo perché in questo modo adesso vedrete riusciremo a costruire un solido che come se noi come una scultura lo scaviamo e ritorniamo al nostro al nostro al nostro esagono nostro prisma esagonale allora questo è l'ingrandimento della parte bassa appunto con le dimensioni che abbiamo visto 2 1 lo stacco 5 la lunghezza 2 il lato centrale e queste due le andremo a misurare da sopra allora andando avanti la prima cosa che faremo faremo esattamente un come se facessimo un intero parallelepipedo questo spiccolo qui d'altezza esattamente uguale a quest'altro quindi anche qui lo andremo a misurare qui e lo riporteremo allo stesso modo di qua questo per quale motivo perché all'interno di questo grande solido di questo parallelepipedo potremo andare a individuare tutti i punti che ci servono per poter rappresentare l'esagono vediamo come allora la prima ecco qui l'ingrandimento della nostra figura della parte bassa ecco la prima cosa noi abbiamo fatto caso portato questi due centimetri che sarebbe il lato del nostro esagono quindi qui potremmo portare le nostre altezze eccole qua qui e sulla faccia superiore ok il passaggio successivo quindi già abbiamo trovato quattro punti del nostro esagono 1 2 3 e 4 mancano i punti sugli spiccoli laterali è chiaro che questo esagono qui lo vedremo scorciato allora per capirci eccolo qua vedete questa è la figura che stiamo rappresentando cioè questa faccia qui è esattamente questa questi punti che sono g b d m eccetera saranno li troveremo appunto nella base già ce l'abbiamo portando sulle verticali quindi in questo modo e poi dopo porteremo le parallele anche lungo la faccia inferiore ora per rappresentare bene l'esagono e sappiamo già che il punto che va su questo spicolo starà esattamente alla metà eccolo lo rivediamo da qui eccolo qua vedete il punto f n f che nasconde n rispetto ad a punto f rispetto a e rispetto a e sta esattamente alla metà quindi qui potremo andare a rappresentare le due metà che è quello che facciamo con questi due segni che abbiamo marcato a questo punto abbiamo tutti i punti dell'esagono dovremo unire questi punti e avere l'esagono scorciato eccolo qua questo è l'esagono scorciato lo possiamo già ripassare con la mina s perché effettivamente siamo sicuri che non verrà coperto da nessun'altra faccia a questo punto da questi sei punti che abbiamo trovato possiamo portare le altezze diciamo così quindi perpendicolari al pv quindi perpendicolari all'asse y fino ad arrivare alla faccia inferiore quindi qui sarà una linea continua qui sarà una linea tratteggiata fino a questo spicolo continua tratteggiata e queste ultime due sono continue a questo punto potremo possiamo diciamo così rappresentare la figura esagonale anche nel lato inferiore mettiamo le lettere e abbiamo in questo modo completato la nostra tavola questa sarà diciamo così la la rappresentazione finale della tavola ricordo che lavoriamo sempre con le parallele ai nostri assi x y z quando abbiamo dei lati inclinali come sono questi lati dell'esagono li dobbiamo ricostruire individuando i punti per cui il punto f lo individuiamo perché è alla metà di questo di questo spigolo il questo spigolo a s come anche gli altri corrispondenti dc eccetera eccetera saranno degli spigoli inclinati che però noi ricostruiamo non andando a cercare la parallela ma andando ad unire del punto a il punto f cioè individuiamo nel nostro solito di base il punto a il punto f e li uniamo in questo modo riusciamo a costruire delle figure anche che sono diciamo così non con gli spigoli non tutti parallele le assi x y e z all'inizio e e e e e e